bella raga qui Zeus benvenuti su un nuovissimo video qui su code world war 2 e allora vediamo siamo su flag tower io ho preso il normalissimo fucile quello che utilizzo io allora vediamo vediamo no 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 dai cavolo già iniziamo così malissimo allora e vabbè mi riesce a prendere quello dell'altro lato no ma tornato a quello non l'ho capito allora vediamo qui cosa riusciamo a fare qui ci stanno tutti i miei compagni ok bello sta colpa la testa fantastico allora qui non riesco a vedere nessuno però adesso è quel mio compagno allora vediamo e raga di chiami anche se dai dai no non ci credo sarei fatto il mio compagno io lo stavo rubando ditemi se volete delle live come quella pensavo che si dropposciutasse e invece no è un mirato ai piedi comunque 1 2 bellissima volete delle live come quella di ieri però su code no dai d'accanto va bene non me l'aspettavo là d'accanto comunque 1 3 dai ci possiamo dare una mossa Zeus dai ah cavolo dove stanno tutti lancia quella oh questo qui non l'avevo visto raga questo è quel canto non l'avevo assolutamente visto allora vediamo bella questa allora vediamo se da qua c'è qualcuno se spawna qualcuno mmm non vedo nessuno andiamo da questa dai cavolo non c'è nessuno dove stanno tutti oh la ma che camper che sono questi mannaggia aspetta io ora me la campero un secondo io pure io raga ci sta camperarsela un pochettino così allora vediamo vediamo mmm qua non ci sta nessuno ok no dai lo stavo uccidendo e mi ha ucciso quello da dietro peccato dai cavolo andiamoci a mossa no 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 non ci credo come non l'ho preso da lì esce da l'altro 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 l'ho uscito allora vediamo andiamo a rivedere qua eeeh dai da questa non ci sta nessuno no uccisci se il mio compagno ma io vedo lo stesso ma io non se lo aspettavo infatti c'è l'altro mio compagno prima di entrare via oh oh un tizio vieni 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 qua bellissima eeeh prendiamo da questo la abbiamo cambiato spawn comunque loro spawneranno sempre da questa praticamente no 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 peccato peccato mi ha ucciso così uh avversario no compagni sto scherzando allora vediamo ok no mi ha ucciso quello dell'altra mannaggia non ci ho provato a uccidere quello di la ma comunque 44 30 li stiamo devastando raga allora vediamo dai 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 no perché eh raga non mi riesco a abbassare cioè c'è poco da fare raga sono non so non capisco dai capo mannaggia quanto smirato qui allora ci sono carriere uno ma la paghi è grande mmm vediamo dove stanno un no 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 non ci credo io ho fatto it marker mannaggia eh se le se le uccise il mio compagno ok vediamo qua non c'è nessun ottimo tu dove pensi da cosa come mi ha preso mannaggia perchè ho skippato come cavolo mi ha preso quello dove il cerchino da quella boh boh vediamo dai cavolo e vai così col led shot vediamo raga manca pochissimo no no mi ha ucciso così mi ha ucciso così allora andiamo a vedere da questa dai 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 cavolo mannaggia uu dai c'è il mio ok perfetto sto dicendo c'è il mio compagno mannaggia io ho fatto no abbassa dio c'è il cerchio sulla finestra no nella finestra sulla finestra nella finestra allora oh 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 due doppia doppia c'era uno la mi sono fatta la doppia fantastica ok questo di qua dormo un'altra doppia oh 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 mannaggia eh eh grandissimo due doppie di fila praticamente ahhh non lo sono riuscito da uccidere non è quello di là né quello dietro mannaggia stai zitto stai zitto no mi hanno ucciso perchè dovevo guardare mannaggia allora vediamo andiamo qua assist dico iniezione oh si è fatta la doppia di pistoletta non ci credo dai cavolo manca un manca un punto praticamente un'uccisione dai così bella che non l'ho fatta io comunque 14 12 bella partita ehm bella bella complicata piuttosto perchè mmm vediamo qua eh quanti killis hai fatto 3 e cosa hai fatto uh con l'ancia fiamme forte qua è stato bravo raga ho fatto 4 più con l'ancia fiamme quindi complimenti a lui davvero eh andiamo a vedere qui qui andando a fare un'altra partita vediamo eh vediamo cosa riesco a fare qui sarà arrivato secondo complimenti complimenti non non è affatto male ehm vediamo qua con qualche qualche esultanza vai e vai di questa ecco qua facciamo pure due pollici grandissimo oh sono stato promosso grandissimo ho sbloccato wild eccetera 28 eh us texas si si preferisco tantissimo us texas che gustav canon in questo periodo raga cioè mi sto trovando davvero bene su us texas questa di qua eh davvero fantastico perché non la vota nessuno cioè perché stavo vedendo secondo che voto eh infatti stavo votando ma non si aggiornava comunque e vediamo cosa riesco a fare qua vediamo l'altra mh qui c'è la mia le cose divisioni ok fanteria qui ho messo sempre serpe però va cambiato perché io prima avevo questa di qua ehm facciamo se mi prestigio l'avevo fatta praticamente al massimo qua tutti i ciondoli praticamente non ne ho manco uno eh allora vediamo vediamo se riesco a eh completarlo in tal caso no non ci credo non sono riuscito a completarlo vediamo su us texas ehm cosa riesco a fare eh speriamo che vada un pochettino meglio di fare più kill più divertimento dai cavolo lo sto smontando tutto qua ehm dopo raga ditemi come vi ho detto a inizio video nel frattempo prendi qua vi trasportata ditemi se vi piace eh che porto le live quella di ieri questo video lo sto registrando dopo la live quindi per questo che mi vedete a vestire nello stesso modo eh allora vai però inizia ehm ditemi se volete delle altre live eh su code perché io ho un programma rainbow che è tipo più tosta da fare ma ehm lo spiego è più divertente fare delle live magari fai due o tre classificate è più divertente oh oh ma non ci credo col cecchino il primo sangue l'ha fatto lui su di me va bene ok così che non è iniziata affatto bene cioè ci stanno massacrando eh vabbè io prendo qua montana raga perché ho visto quello di là col cecchino se no ecco infatti quel tizio col cecchino eh vabbè vabbè allora prendi montana devi salire devi salire ok perfetto vediamo con montana cosa riesca a fare raga ehm allora vediamo dov'è no non ci credo come non non ci credo come non l'ho ucciso eh eh attirare una legata assurda c'è fatto zon dai cavolo mannaggia che mira oh mannaggia oh allora ma non vuoi che c'erano i miei compagni se non ci mori io qua allora qua c'è qualche arma ok dammi questa ho detto dammi questa perfetto ehm allora vediamo se qua c'è qualcuno dalle lunghe distanze no 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 non l'ho preso per quanto eh dalle lunghe distanze non vedo nessuno bombardamento nemico stendiamoci qua dove cavolo sta no stava dentro non l'ho visto mannaggia non l'ho vista solissimamente sali qua ehm allora vediamo qua non c'è nessuno davvero dove cavolo si 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 passa ma non vedo nessuno dammi qua uh c'è un tizio bella lancia 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 veloce eh vabbè quante che è chi vince prima vince no 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 ti devi abbassare raga non mi si abbassa il personaggino qua ehm non mi si abbassa io dico deve abbassarsi e lui non si abbassa cosa devo fare allora vediamo cosa riesco a fare col montana raga no non ci credo questi qua non si può mettere giusto no infatti me la metto a terra mannaggia me la metto a terra allora la metto qua c'era un altro c'era un altro c'era un altro ah pensavo che non c'era nessuno lì cioè non ci fosse nessuno non ci fosse facciamo qua mi faccio delle kill da qua c'è qualcuno no ok vediamo tanto spunto dalla sicura eh infatti lo sapevo più sicuro di quello si moriva dai qua il mio compagno da lì a me uh bello quello bello quello no no perché raga quando vi abbassate i polamire è più stabile ehm no ma no con tutti i colpi l'ho lisciato mannaggia dai un colpo morto ci stanno leggermente devastando però il problema è questo è che ci stanno dominando praticamente dai allora andiamo no non ci credo dai cavolo dai cavolo no perché questo sparo da caso praticamente ehm ehm dai bella vai 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 ricarica ricarica mi piace mettere quella vai no oh ma raga spreco troppo troppi oh calmo sta nella cabina non ho capito forse sta nella cabina si ehm ehm uh per quanto io ho fatto la sagoma quello ho fatto la sagoma quello ho fatto la sagoma bella oh sono diventato sono ho aumentato la divisione grandissima uh le ho fatto 5 il kill 5 ora sono assentato di sangue praticamente da qui non vedo nessuno non bene mannaggia nooo per quanto per quanto ho fatto la sagoma eh vabbè le ho ucciso il mio compagno no 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 non sono caduto non sono caduto sono caduto e poi è difficilissimo risalire e infatti lo sapevo eh lì una volta che cadi praticamente uh sono spawnato nell'altro spawn 4 colissimo problema uh bella questa quello che mi cede sempre eh vediamo vediamo qua dove sono gli avversari mmm qui non vedo nessuno raga dove c'è volerle c'è morto il mio compagno no no c'è tizio nooo l'ho visto dopo mannaggia l'ho visto dopo quel tizio eh raga qui è impossibile da recuperare davvero difficult che sta là bella bella cavolo un colpo morto eh me la campo un secondino qua perchè raga veramai mi ha 43 68 stiamo facendo dai dai cavolo ahia non vedo nessuno qua raga mi conviene di andarmene da qui si si infatti io ne vado non c'ho provato a lanciarla così e prenderlo però no bella cavolo in testa ma eh mancano 3 kill all'oro nooo per quanto mannaggia dove dove no eh vabbè scappa vediamo qua se viene qualcuno dove cavolo stanno no da dietro mannaggia eh vabbè eh raga abbiamo perso eh bella complessa è stata raga mmm si però è divertente è stata io ho utilizzato soltanto il cecchino quindi me lo doveva aspettare che andava così vediamo questa questo di qua è pure il cecco eh vabbè questo di qua è tutto bravo lui lui con il cecco tutto bravo ho fatto 3 killi così complimenti a lui comunque raga dirga per questo appuntamento è tutto vi ringrazio tantissime le visioni vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video commentarlo condividerlo idemi se volete eh il video su caludio di botta re ci si becca un altro video qui il vostro zeus bella